In piazza Giovanni Amendola, Salerno è stato celebrato il 165esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta con la massima sobrietà alla presenza del prefetto e delle autorità civili, militari e religiose, nonché di rappresentanze del personale della Questura di Salerno, degli uffici, delle specialità, dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e con i rispettivi familiari. Nell'anno in corso inoltre ricorre il settantesimo anniversario della Costituzione della Polizia Stradale, nata come specialità della Polizia di Stato il 26 novembre del 1947 e sono stati quindi evidenziate reazioni meritevoli da parte degli agenti della provincia di Salerno. Tra queste da sottolineare un intervento vitale da parte di una pattuglia di sala Consilina, un intervento sottolineato direttamente dalla Polizia. Il 14 agosto del 2016 si legge nel comunicato della Polizia di Stato una pattuglia della sottosezione di sala Consilina guidata dall'ispettore capo Rufino Tortora in servizio di vigilanza stradale effettuava una sosta operativa all'interno dell'area di servizio sala Consilina Sud, che si presentava piena di vacanzieri. Nell'area di servizio giungeva una Citroen C3 con diverse persone a bordo che presentava perdita di fumo dal vano motore e la fuoriuscita di fiamme dalla mascherina anteriore. I poliziotti con grande acutezza, ritenendo che il conducente non si fosse accorto del guasto, si legge ancora sulla nota stampa della propria vettura e soprattutto del principio di incendio, senza alcuna esitazione e con azione fulminea fermavano il veicolo in sicurezza, portandolo distante dai molteplici veicoli ed avventori presenti sul posto. E qui arriva il grande gesto di coraggio dei poliziotti, i quali, dopo aver prelevato l'estintore di servizio, si sono precipitati vicino alla vettura in fiamme, sentendo le urla della giovane coppia proprietaria dell'auto, che disperatamente chiedeva aiuto poiché nella vettura, sui sedili posteriori, vi erano le loro bambine. Il capo pattuglia, con non poche difficoltà, aprendo la portiera posteriore dell'automobile, è riuscito a mettere in salvo Ludovica, una bambina di due anni, e Chiara, una bimba di soli otto mesi. Grande l'ammirazione delle persone presenti nell'area di sosta per il tempestivo ed efficace intervento dei poliziotti, che verso di loro hanno espresso gratitudine ed ammirazione. Si ritiene, si legge quindi nel comunicato della polizia, evidenziare la prontezza dell'intervento, la grande professionalità, il senso del dovere e un non comune sprezzo del pericolo degli operatori, che hanno proceduto salvaguardando l'incolumità dei protagonisti e degli astanti che si trovavano in una situazione estremamente pericolosa.